Buonasera a tutti, io sono Emanuele Martino e vi volevo invitare alla serata di venerdì 12 a Ponte San Nicolò alle ore 21 presso il centro civico Rigoni Stern, serata organizzata dal Comitato Intercomunale Brenta Sicuro, da Lega Ambiente e dai vari comitati che si battono per il completamento dell'idrovia Padova Mare. La serata sarà coordinata da Mauro D'Alsanto di Lega Ambiente e vedrà la presenza sia dell'amministrazione comunale, che ha dato il patrocino alla serata, sia del professor Dal Paus. Perché è importante l'idrovia Padova Mare e il suo completamento per chi abita a Ponte San Nicolò, Casal Serugo, Bovolenta, Polverara? Perché una volta completata l'idrovia si può restituire al nodo idraulico di Volta Barozzo la sua flessibilità e spostare acque di piena che oggi andrebbero nel Roncaiette verso i canali San Gregorio, Piovego, Brenta e Idrovia. Questo è un motivo per esserci, anche perché il giorno prima ci sarà la riunione preliminare in vista della conferenza dei servizi. Vi aspettiamo venerdì sera ore 21 a Ponte San Nicolò. Ciao a tutti!